E' iniziata l'era di Massimo Scura all'ASPO di Reggio Calabria, oggi infatti il suo insediamento alla guida dell'ente di Via Diana, un ente colpito da diverse inchieste giudiziarie con un debito di 200 milioni di euro. A margine dell'incontro avvenuto anche con l'ex direttore generale Giacomino Brancati, che adesso andrà a ricoprire il ruolo di coordinatore delle attività sanitarie e sociosanitari territoriali, Scura ha ribadito la legittimità dell'atto con cui si è nominato commissario. Mi auguro che nessuno faccia ostruzionismo in tal senso, se no sarò costretto a prendere gli opportuni provvedimenti, il quale dice chiaramente che il soggetto attuatore assume le funzioni del direttore generale. Non sono mancate però le stoccate al governatore Mario Oliverio, che ieri aveva definito il decreto di dubbia legittimità, paventando il rischio di creare danni e confusione. Mi piacerebbe che anziché usare toni tra l'altro parzialmente offensivi, chi ha qualcosa da proporre in termini costruttivi per la soluzione dei vari problemi dell'aspo di Reggio Calabria, ci dia dei suggerimenti, sarò molto favorevole e contento di ascoltarli. Il neocommissario Scura si è messo subito al lavoro. La gestione delle risorse umane è il primo obiettivo, senza quella non funziona nulla. Per l'ex DG Brancati, pur ammettendo un po' di meraviglia per la decisione di Scura, il decreto è legittimo e non mancano le critiche, seppur velate alle istituzioni regionali. Più volte ho invocato l'aiuto delle altre istituzioni in tal senso. Credo che finalmente questa è stata l'occasione per cui questo aiuto è stato dato. Mi è caduto un po' tra capo e collo. Non mi preoccupa e non mi disturba più di tanto, in quanto è poi la precisa applicazione di una legge dello Stato. Mi auguro che i problemi atavici si incamminino verso una strada di soluzione. Io dove starò, lavorerò sempre.